Dal lunedì 18 maggio stoppa le autocertificazioni per gli spostamenti all'interno della propria regione. È una delle principali misure di allentamento contenute nel decreto legge che è stato approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri. Il presidente Giuseppe Conte lo aveva annunciato nella conferenza stampa del decreto rilancio. Proporrò ai ministri di adottare lo strumento del decreto legge per normare provvedimenti anticontagio da covid abbandonando così i dpcm. Il DL è stato approvato dopo una giornata complessa è caratterizzata da un forte scontro in particolare tra regioni e governo ma alla fine la sintesi è arrivata dunque da lunedì gli spostamenti all'interno delle regioni tornano ad essere liberi. Nel decreto legge poi si prevede che lo Stato e le regioni in base a quanto previsto dal DL 19 dello scorso 25 marzo potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Tradotto se in una certa area si dovesse registrare una impennata dei contagi lì sarà istituita una zona rossa con limitazione della mobilità. L'autocertificazione invece resta in vigore fino al 2 giugno per gli spostamenti tra le regioni che al pari di quelli da e per l'estero non sono ancora consentiti a meno che non si abbiano comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno via libera anche gli spostamenti tra le regioni e a quelli da e per l'estero a meno che anche in questo caso non vi siano limitazioni adottate da Stato o regioni per l'istituzione di una zona rossa. Resta il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico così come il divieto di mobilità per persone che hanno avuto la diagnosi del covid o che sono state sottoposte al regime di quarantena precauzionale adottata dall'autorità sanitaria verso soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone risultate covid positive. Dalle 18 maggio la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali andrà portata avanti adeguandosi alle prescrizioni dei rispettivi protocolli. Laddove la propria regione non abbia disposto per un certo settore bisognerà fare riferimento alle linee guida dei protocolli nazionali. Con cadenza giornaliera le regioni sono tenute al monitoraggio epidemiologico del proprio territorio e alla comunicazione dei dati al Ministero della Salute, al Comitato Tecnico Scientifico e all'Istituto Superiore di Sanità che possono provvedere di conseguenza in caso di insorgenza di focolai. Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui l'articolo 650 del codice penale, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, le violazioni delle disposizioni del decreto prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.